A Milano l'editore Dino Fabri presenta al pubblico convenuto nel salone della Dante Alighieri una nuova edizione della Divina Commedia. Per illustrare degnamente l'opera studiosi e specialisti hanno cercato nelle biblioteche e nei musei le opere d'arte più significative ispirate al mondo di Dante e al suo capolavoro. Giuseppe Ungaretti che ha scritto la prefazione a questa nuova edizione della Divina Commedia parla dell'universalità e dell'attualità della poesia di Dante. La scelta e la selezione del pregevole materiale illustrativo ha richiesto 5 anni di lavoro.